A 25 anni di distanza Messina è pronta a celebrare una data storica, un evento storico, la prima canonizzazione fuori Roma e la visita di Giovanni Paolo II a Messina. Sì, abbiamo pensato una rete di associazioni, i padri ragazionisti, Sant'Antonio, l'Istituto Cristo Re, l'Associazione Antonella da Messina, la Fondazione Bonino Buleo, di creare un comitato per ricordare questo grandissimo evento che è stata veramente una pagina di storia straordinaria che ha visto il Papa Voidivo a Messina per canonizzare Santa Eustochia. Abbiamo pensato di creare una tre giorni con grandi eventi sia dal punto di vista religioso con la presenza del cardinale Stanislao Diviz che è stato il segretario personale di Papa Voidivo e che venne quel giorno di 25 anni fa proprio. E la cosa importante è che incontrerà la cittadinanza, verrà intervistato la Piero Ortega, incontrerà chiaramente la Basilica di Sant'Antonio e poi faremo degli eventi culturali perché vogliamo sottolineare il Papa Voidivo come poeta, intellettuale e drammaturgo. Il primo giorno avremo un incontro con i giornalisti testimoni a Cristo Re perché Cristo Re è la location dove proprio lì c'è la stanza del Papa che verrà aperta alla cittadinanza. Ci sarà Nuccio Fava che parlerà da inviato del TG1 dei viaggi del Papa e tutti i giornalisti di Messina ricorderanno quel giorno storico. E poi il giorno 14 pomeriggio uno dei più grandi registri del mondo che è Cristofo Zanussi che è stato il biografo di Papa Voidivo, il primo a dirigere un film appunto su Giovanni Paolo II che verrà a Messina e verrà intervistato da Rocco Familiari. Sarà un grande evento veramente per la città per ricordare la figura di Voidivo che è molto legata a Messina, alla Sicilia ed è una cosa importante che la cittadinanza partecipi a questo evento. E' un evento che ricorda la memoria storica ma anche l'attualità. 25 anni fa la città veramente riuscì anche grazie a Papa Voidivo a diventare una città internazionale. L'importante è che questi eventi possano sprovincializzare Messina.